Il passo di fianco di Grillo e 5 Stelle in piazza ad Arezzo. Il Movimento 5 Stelle va ad Arezzo per manifestare sulla vicenda di Banca Etruria e per chiedere al Governo che attraverso il decreto si trovi il modo di restituire tutti i soldi ai cittadini. Il PD renziano non gradisce e risponde polemicamente. Fanno ridere più del loro capo nel giorno in cui Grillo annuncia di tornare a fare il comico. L'iniziativa nel Comune Toscano avviene in coincidenza con le parole che il leader del Movimento affida al Corriere della Sera dopo aver già tolto il suo nome dal simbolo. Faccio un passo di fianco perché ho voglia di riconquistare la mia libertà e rilancio il suo lavoro di attore comico con una serie di spettacoli in giro per l'Italia. Il Movimento 5 Stelle continua a camminare sulle proprie gambe e camminerà sempre di più sulle proprie gambe. Beppe Grillo sta facendo quello che ha sempre detto ma resterà il garante delle nostre regole. Il leader o garante allenterà il suo impegno politico. Resta da vedere a favore di chi? Del direttorio posto alcuni mesi fa alla guida del Movimento oppure di Casaleggio che già ispira dietro le quinte tante scelte dei grillini? Grazie a tutti. Grazie a tutti.